Un lungo pomeriggio elettorale, quello di lunedì 5 ottobre, da seguire ora dopo ora con la storica trasmissione di tele nuova diretta Voto, che torna per il turno di ballottaggio e per seguire in diretta lo spoglio che porterà l'elezione dei sindaci di Pagani e Dangri. Ospiti studio e collegamenti in diretta grazie ai redattori presenti in tutti i comitati dei candidati sindaco per commentare live il voto insieme ai protagonisti della tornata elettorale. Le dirette saranno coordinate dal nostro studio centrale, con i dati in costante aggiornamento. Si inizia alle 15 per un commento a caldo, a ridosso della chiusura delle urne per le prime proiezioni sui risultati e per poi entrare nel vivo dello spoglio. Dopo la chiusura della campagna elettorale nella serata di ieri, gli elettori di Pagani dovranno tornare domani alle urne per scegliere il sindaco tra l'avvocato Lello De Prisco e l'imprenditrice Mzafezza, che si contenderanno la fascia tricolore dopo aver battuto nel primo turno gli altri sfidanti, Aldo Cascone, Vincenzo Calce e Vincenzo Paolillo. Minimo lo scarto tra i due, solo 300 voti di differenza. Ballottaggio anche ad Angri con la sfida tra il sindaco uscente Cosimo Ferraioli e l'ex primo cittadino Pasquale Mauri. Entrambi hanno sconfitto durante il primo turno i candidati Giuseppe Iozzino del Movimento 5 Stelle, l'ex consigliere comunale di opposizione Alberto Milo ed il consigliere Eugenio Lato. L'appuntamento è quindi domenica con i seggi aperti dalle 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Grazie. 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 Grazie.